La mente umana è come una cassaforte e ci sono cinque elementi, cinque codici, cioè cinque numeri, che vanno a formare la combinazione della sua mente, della sua cassaforte. Tu attraverso questo corso, sette ore, in queste sette ore, imparerai a fare questo. E imparerai a trasformare quelle che sono le comuni obiezioni. Quindi ci devo pensare, devo parlare con qualcuno, mia moglie, commercialista, altre obiezioni simili. Non ho soldi in dove devo firmare, perché di fatto io ti porterò a creare un ambiente, un terreno in cui non sei tu a vendere, ma è l'altra persona che sta acquistando da te. E' chiaro che per fare questo tu devi offrire un valore aggiunto concreto. Quindi non è che tu imparerai a imbrogliare le persone, cioè nel senso che le tecniche sono le stesse. Poi tu dovrai decidere come utilizzarle. Ma se non hai un valore aggiunto da offrire, cioè duri 24 ore, perché la persona poi quando riceve il servizio, che cosa fai? Lo vede che non è un valore aggiunto che gli cambia la vita, lo vede che gli hai fatto promesse che non valgono nulla. E quindi qua la tua reputazione va a morire. E questo va a distruggere tutto quello che hai fatto creando una negoziazione vincente. Quindi io ti insegnerò a non fare questo. Ti insegnerò a crearti una reputazione impeccabile. Ti insegnerò a creare questo terreno in cui non sei tu a vendere e lui ad acquistare. E allora è chiaro che devi avere un valore aggiunto da offrire, perché sennò tutto questo non funziona. Perché quello che io insegno è andare a portare un valore aggiunto affinché la persona non solo faccia un acquisto da te, ma diventi un tuo cliente fan. Una persona che è così contenta e soddisfatta di come tu gli hai migliorato la vita, di come tu gli hai risolto un problema, soddisfatto un bisogno, di come tu lo hai aiutato in un momento di difficoltà a eliminare una percezione di sofferenza che magari hai in quel momento, perché ha bisogno di un determinato prodotto o servizio, io ti porterò a far sì che questa persona si fidelizzi a te, al tuo brand, alla tua azienda. E allora cosa stai aspettando? Questo è il corso che potrà finalmente cambiare la tua vita, cambiare il tuo business. Perché imparare a fare questo vuol dire, molto semplicemente, aumentare le percentuali di conclusione, di chiusura, per ogni vendita, diciamo per ogni trattativa. Imparerai a capire quali sono i potenziali clienti che sono perdi tempo e quali sono invece i clienti su cui ti devi focalizzare. Quindi migliorerai la qualità del tuo tempo, ottimizzerai. Inoltre imparerai a fare che cosa? Ad aumentare il profitto, il tuo profitto, per ogni vendita. Quindi aumentare la frequenza di acquisto dei clienti. Perché se tu vuoi far prosperare il tuo business, devi fare queste tre cose, anzi devi essere capaci di fare queste tre cose. Aumentare il numero dei tuoi clienti, quindi aumentando le percentuali di chiusura. Aumentare la frequenza di acquisto dei tuoi clienti. Aumentare il tuo profitto per ogni prodotto. E tu attraverso questo corso imparerai questo. E non solo. Io ti darò, tra i bonus che vedrai qui, qua il link che c'è qui sotto, io ti darò un manuale che va a riassumere tutte le oltre 380 slide che vedrai in questa giornata, in queste sette ore, in cui potrai aggiungere delle note personali. Io praticamente ti ho già creato un manuale con tutti gli appunti, cosicché avrai due vantaggi. Primo, potrai essere focalizzato sul corso senza distrarti a prendere appunti. Secondo, successivamente al corso tu avrai tutto quello che ti serve, con esempi concreti, per andare a stilare una trattativa, una negoziazione efficace con tecniche di comunicazione persuasiva negli incontri successivi, nelle riunioni, nelle tue successive vendite, nelle tue trattative, con il tuo partner, con chi vuoi. Perché devi sapere che la struttura mentale attraverso la quale noi comunichiamo, quindi attraverso la quale noi percepiamo le informazioni, è la stessa. Quindi che io parli di professione, vendita, valori, qualsiasi altra cosa, progetti. E nel corso ti farò tanti esempi. Infatti all'interno della pagina, se tu cliccherai nel link che c'è qui sotto, arriverai a vedere un piccolo spezzone del corso, proprio pochi minuti, 5 o 6, e lì andrai a vedere già e capirai come la tecnica, cioè la tecnica, la struttura della comunicazione, è la stessa in ogni ambito, in ambiti diversi. Quindi la cosa più importante che devi capire è questa. Tu devi scegliere, se vuoi essere nella categoria delle persone che influenzano e persuadono gli altri ad acquistare i propri valori, le proprie idee, i propri bisogni, i propri prodotti o servizi, o se vuoi essere quello che acquista e non si accorge neanche che viene persuaso e influenzato. Perché nella società ci sono aziende, organizzazioni, politici, che ottengono risultati straordinari, che ottengono risultati, che tante aziende, organizzazioni, ci provano a ottenere, ma non ci riescono, sono ben lontane dall'ottenere questi risultati. E secondo te dov'è la differenza? Nel loro modo di comunicare. E allora, se tu vuoi avere il modo di comunicare dei migliori, dei numeri 1, devi unire al mio corso, al corso della World's Project, che si chiama Selling, comunicazione persuasiva, perché lì ci sono le migliori tecniche, quelle utilizzate dai numeri 1, attraverso le quali queste organizzazioni, queste persone hanno raggiunto risultati straordinari. Chi sono io? Lo vedi descritto nella pagina qui nel link. Io ho semplicemente dieci anni di esperienza in questo settore, ho ottenuto personalmente oltre mille colloqui di vendita personali, ho perso il conto, ti dico mille, ma sono molti di più, ho visto one to one oltre 2.000 persone, ho ottenuto corsi di formazione per oltre 1.000 ore di aula, a quasi 6.000 persone, le ho anche superate, nell'opt-in ci sono dei dati vecchi, però preferisco stare basso, ma io ho questa esperienza, e ho capito, facendo tutti questi corsi, che noi leggiamo, tutte le persone sono diverse, uniche e speciali, ma noi leggiamo seguendo alcuni schemi in comune. Se verrai il corso, capirai quali sono questi schemi. Quindi, mi raccomando, clicca nel link, vieni dall'altra parte, guardati quell'altro breve filmato, leggi la pagina, prendi le opzioni, abbiamo preparato 4 bonus, non so se adesso sei ancora in tempo per prenderli, non farti scappare questa occasione, perché se tu verrai questo corso, avrai anche delle altre offerte, su cui preparare, se vorrai, un percorso in cui io ti seguo personalmente per un anno. Però questo solo per i più ambiziosi, solo per le persone che riusciranno a entrare nei primi 10 in questo gruppo, che già è praticamente riempito per la metà. Quindi ce ne sono già, non mi ricordo se 4 o 5. E allora, te la scelta, devi scegliere se volere padroneggiare queste tecniche di comunicazione persuasiva, o voler essere una persona che viene influenzata e non se ne accorge neanche. Grazie e ci vediamo, o al prossimo video, oppure in aula. Ciao!